Magliù, sta avvenendo il momento più brutto della nostra vita quello che ci mette ansia su un pensiero quello che ci fa vivere con il complesso di non essere pronti ma di chi stai parlando? la propria costume ma quanti problemi ci facciamo pisciare a fare il bagno a casa? adesso sta tutto rilassato, coppolettini con il drink alla mano invece ci mettiamo davanti allo specchio la mattina sera a dire ma che è questa cellulite coppa e cosci? se non basta in braccia a palestra immagina, se li tengo questo culo a Napoli, una tavola da serfa ho messo troppo bianca ma non mi appresento ma dove va con questa panza? Faccio schifo sono senza tette e anche quest'anno indimente che la fatima trotta si partigiava perché io tengo il dirmi sul rispetto a essa ma come va che la moto quest'anno tutta parla strada? ma i fianchi? vogliamo parlare dei miei fianchi? ooooh ma che si f***a? che non mi farei? ma che mi fa messi dallo mistello? in questo bambino ci siamo a prendere pochi soli e ci sono a bronzare pochi e cacciare c'è che ho fisico canna lì ci siamo a presentare tutte le parti così triniamo pochi mansi vuol dire che in ristorante e in entro locale non siamo privati niente vuol dire che a tavola ci siamo schiattati a capo e poi diciamo la verità è inutile che ci faccia i miei problemi tanta gente parla lo stesso e che sarà mai qualche chilo in più? tanto chi ti vuole bene? chi sceglie per quello che sei? ciao 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 ciao